cari go spaces abbiamo alcune novità le novità del mese di aprile che ho voglia di dimostrarvi allora per prima accedo diciamo al mio dashboard e vado in questo è per i docenti vado nel piano della licenza e noi vediamo nelle integrazioni dove possiamo abilitare la google classroom adesso abbiamo anche la possibilità di abilità di ricerca di google poi possiamo invitare direttamente dei docenti tramite mail e li possiamo assegnare il ruolo di amministratore in caso di bisogno e poi ci sono altre novità lo vediamo se clicchiamo accanto sulla destra al canto alla nostra immagine di profilo gli ultimi aggiornamenti quindi qui in questo posto possiamo vedere come vi ho già fatto vedere la possibilità di invitare i docenti ma una delle cose che per me è più bello possiamo da adesso saltare tramite i comandi con l'headset di pico e di meta quest quindi questa era la primissima notizia che io ho voluto comunicarvi poi come vi ho già detto possiamo abilitare la barra di ricerca di google e poi possiamo fare download di tutte le attività nel piano della licenza questo di nuovo è per i docenti non lo faccio vedere perché lì abbiamo anche dei dati sensibili l'unica cosa che potrei far vedere dove si potrebbe fare questo sempre nel piano della ricerca in integrazione troviamo sotto il titolo piano di licenza scarica il registro basta cliccarlo crea un documento in cui avete tutte le cose che avete fatto per esempio nell'ultimo periodo quindi ecco erano le novità del mese di aprile di nuovo le novità si troveranno ogni mese quando vedete che il punto interrogativo sulla destra accanto l'immagine del profilo cambia di colore e lì possiamo vedere gli ultimi aggiornamenti questo è tutto e happy co-spacing grazie